Siamo all'interno della Fiera Internazionale dell'Agricoltura, abbiamo qualche settimana fa presentato il piano per dare dell'informazione anche al Comune di Foggia sulle barriere architettoniche presenti in città. Sappiamo che ci stanno avvelenando la nostra terra, mafia, camorra e quant'altro, ma noi non ci fermeremo davanti a nessun ostacolo, continueremo le nostre battaglie. Io sono Gian Pietro Di Mola, consigliere dell'Ordine degli Agronomi di Foggia. Ad oggi la Regione Puglia risulta essere una delle regioni che maggiormente ha investito nel settore biologico destinando buona parte del proprio budget alla misura 11, che è quella dedicata alla misura sul biologico. Si registrano circa 5.000 nuove domande di adesione e associatamente al sistema di certificazione biologico che si spera vada avanti anche in assenza di contributo, considerato che le risorse purtroppo sono limitate.